Meghan Markle e il principe Harry sono stati ancora una volta criticati da un conduttore televisivo britannico, suggerendo che entrambi dovrebbero essere gettati dal balcone. Nel frattempo, secondo quanto riferito, i fan del Sussex sono furiosi per il detto commento. David Mellor su GB News ha suggerito che la regina Elisabetta è diventata importante per Harry per costruire credibilità in connessione con la sua imminente visita nel Regno Unito. La regina diventa importante per lui solo perché deve vedere la regina per la sua credibilità su Netflix. Il presentatore Emo Nons ha poi aggiunto, sì, devo essere fotografato, devo essere su quel balcone. Sta tirando fuori un libro in cui sta stroncando Camilla Parker Bowles e forse William e suo padre. Poi ha continuato, come diavolo, perché non l'hanno lanciato dal balcone e lei, Meghan Markle, con lui. Nel frattempo, l'aiutante di Meghan e biografo reale, Omid Scobie, ha prontamente risposto alla spiacevole dichiarazione, definendo la completa violenza contro il duca e la duchessa di Sussex. Ha tweetato, tutti hanno diritto a un'opinione, specialmente su un'intervista fatta per il pubblico consumo. Ma sai cosa non è accettabile? Vile commento che serve solo a incitare alla violenza e all'odio. Anche i fan di Meghan e Harry hanno acconsentito e hanno risposto alla dichiarazione di Scobie, stando anche in piedi e parlando contro il continuo odio per la coppia. Perché prendono qualcosa detto da Harry e Meghan così sul personale? Un altro ha condiviso, un'altra opportunità, oltre alle centinaia di altre che hanno avuto, per la famiglia reale di affermare chiaramente che i commenti offensivi e offensivi rivolti a Harry e Meghan hanno superato il limite. Nemmeno i funzionari governativi accusati di corruzione lo capiscono molto al vetriolo della stampa britannica, Neymon e i suoi simili hanno chiesto che i funzionari del governo venissero gettati da un balcone. Secondo quanto riferito, Harry e Meghan arriveranno per le celebrazioni del Giubileo di Platino con i loro figli Archie e Lilibet. Si ritiene che la presenza dei bambini persuada la regina a consentire un modello di sicurezza ibrido che consentirebbe a Harry e Meghan di pagare per la propria sicurezza durante il viaggio. Tuttavia, riceveranno la protezione reale quando soggiorneranno nei terreni del castello di Windsor e mentre si trovano a Stiples insieme all'arresto della famiglia reale. Si dice che la sicurezza sia fornita dallo Special Escort Group, che offre protezione armata mobile sia reali che ai ministri del governo.